Quello che noi separiamo spesso non è un prodotto, ma è un insieme di prodotti. L'esempio della bottiglia con le due etichette, il tappo di metallo, la plastica che lo contiene, è un esempio che in un rifiuto ce ne sono quattro. Quindi questi rifiuti vengono messi da una parte dove qualcun altro, spendendo dei soldi, lo valorizzerà. Al cittadino invece di dire separa cinque cose, noi diciamo semplicemente separa due cose. Quindi ecco perché la bidifferenziata. Separa da una parte tutto, virgolette tutto, e in un sacchetto biodegradabile l'umido. Questi due sacchetti vanno in due contenitori, quindi saranno due cassonetti solamente, e verranno riutilizzati da chi? Da macchine, che in maniera intelligente separeranno fino al 95% di rifiuti del secco e dall'umido faranno energia elettrica, faranno metano e con quello che rimane ci sarà compost per l'agricoltura. Con due sole buste otteniamo tantissimi risultati, ma uno soprattutto, lasciamo liberi i cittadini. Non ci saranno più compattatori che emettono fumi, non ci saranno più rifiuti che cadono a terra. Nessun cittadino protesterà perché? Perché ogni municipio avrà il proprio impianto, che è un impianto industriale, questa è la cosa bella. Impianto industriale vuol dire capannone pulito, senza odori, senza niente, quindi uno non vede i rifiuti, non sente puzze, vede un impianto industriale.